Ehi! C'è che cazzo! I portali nel 1943 sono tutti chiusi ormai. Sono intrappolati nel passato. Ma tu lo sai che giorno è oggi? È l'8 settembre, è il giorno del posto. È l'esorstizio. Armistizio. Chi siete? Facciamolo per la libertà. Per l'Italia. E per Maradona. Chi è Maradona? Siete l'unica banda che ci ho mai avuto. Scusa! Sandro Bertini, il presidente degli italiani. È un onore, è un piacere. Faccio così, eh? Che stiamo scherzando? Quando in là c'è il duce. Il duce? Vinceremo! Tanto la perdete sta guerra. Perdete pure la finale dell'82. Ma ricordate sto nome. Paolo Rossi. Sì, sta guerra. VeLo Sì, a little timina era un totale, qu'è pubicioso romante. Cheい'udio. Perlui.